Il giusto o sbagliato che sia il comportamento della Meloni è il comportamento di un partito che ha scelto di stare fuori dal governo. Matteo Salvini ha deciso di portare la Lega dentro il governo e il Green Pass è un provvedimento del governo. Infatti che cosa è successo? È successo che a un certo punto i governatori del nord, i leghisti, a cominciare da Zaia e tutti gli altri, hanno sentito che cosa diceva la borghesia industriale di quei territori che rappresenta la Lega. Quella borghesia industriale con gli operai che lavorano in quelle fabbriche e quelli gli hanno detto noi vogliamo il Green Pass perché noi vogliamo tornare a quel poco di normalità che è consentito con la pandemia. Quindi Draghi ha ascoltato i governatori, ha rotto gli indugi ed è andato dritto sul Green Pass e ha emarginato Salvini non solo dal governo ma ha emarginato Salvini dal suo stesso partito. Quindi il populismo, tu mi dici che cosa sposta, quanto e come. Io credo che il populismo esca sconfitto in questa vicenda perché, parliamoci chiaro, la campagna vaccinale sta andando avanti. Noi siamo convinti che Salvini con questo comportamento ha razzolato tanti voti. Io non credo. Io credo che questo comportamento populista di Salvini abbia provocato il carachiri di Salvini, il suicidio politico di Salvini perché allo stato attuale, a oggi pomeriggio, naturalmente con l'aggravante della vicenda Morisi, Salvini è politicamente sconfitto.